Siamo nella sede dell'11. municipio con il Presidente Maurizio Veloccia per affrontare un tema specifico, Presidente, che è quello del mercato di Corviale. Noi come agenzia giornalistica abbiamo ricevuto una serie di sollecitazioni da parte degli operatori che sono dentro al mercato, che peraltro sostengono di essere coloro che operano a chilometro zero e che invece una serie di soluzioni tecniche di rifacimento e quant'altro li porterebbe ad abbandonare questo locale e hanno timore che poi non sarebbero in grado di rientrare, peraltro sostengono che i lavori dovrebbero essere molto brevi, invece li hanno prospettato lavori a lungo termine e quant'altro. Qual è la situazione reale a questo punto? Tenendo conto che non è di proprietà, da quello che abbiamo saputo, ma del Comune di Roma. Sì, la situazione è una situazione complessa, nel senso che il municipio ovviamente è informato, si sta muovendo, sta cercando di trovare una soluzione, ma non ha alcun tipo di competenza su questa vicenda perché il farmer market è di gestione dipartimentale e in particolare del Dipartimento di Attività Produttive. È per quanto concerne Corviale, a nostro giudizio e penso a giudizio di tutta la popolazione, un'eccellenza, nel senso che noi riteniamo che si tratti davvero di un'occasione utilizzata, sfruttata bene di rilancio del quadrante, nel senso che il nostro obiettivo è che a Corviale possano arrivare cittadini anche fuori da Corviale e il farmer's market svolge questa funzione, tantissimi clienti provengono da fuori Corviale. Quindi a chi mi domanda è un mercato che va preservato io rispondo sì, assolutamente sì. Poi c'è però un'altra questione, di come è nato questo mercato, di come è stato gestito, di come sono state assegnate le licenze, o meglio non assegnate e quindi di tutto quello che c'è dietro da un punto di vista amministrativo. Cioè la precedente giunta capitolina in realtà ha fatto quello che in gergo si direbbe un casino, un macello, perché ha fatto un bando, non ha allegato addirittura alla determina di assegnazione di una graduatoria di vincitori, quindi ci sono dei soggetti idonei, ma non si sa quanti soggetti abbiano diritto a stare lì dentro e quindi questa storia in realtà si trascina ormai da diversi anni e ha fatto nascere in modo quasi spontaneo questo mercato a questo punto, che però non può continuare ad essere gestito in questo modo. Anche perché purtroppo ci sono delle problematiche che sono state evidenziate proprio dal Dipartimento in una lunga lettera che io posso consegnare a voi e cioè che questo mercato al di là di alcuni problemi strutturali, la struttura necessita di alcuni lavori di manutenzione straordinaria per delle infiltrazioni, tuttavia io penso che questo sia un problema secondario, presenta però dei grandi buchi a livello amministrativo, appunto all'interno di quel mercato nel tempo c'è stata una gestione autarchica, cioè un'autogestione, tra l'altro con anche degli interventi della Polizia Municipale che ha verificato come ci fossero le carte che non stanno a posto. Allora noi dobbiamo tutelare il Farmers Market, dobbiamo tutelare quei produttori che giustamente sono vittime di queste mancanze nell'amministrazione, ma dobbiamo tutelare anche i cittadini, quindi garantendo la prosecuzione del Farmers Market, ma garantendo anche che questo prosegue in un albero di legalità, di chiarezza, in cui chi ha diritto sta dentro, chi non ha diritto non sta dentro, perché produttori a chilometro zero significa che là bisogna che ci siano dei produttori a chilometro zero e non la chiunque, la qualunque. Quindi quando c'è arrivata questa lettera dal Dipartimento noi abbiamo sollevato due questioni. La prima è che senza dubbio se ci sono delle regolarità vanno sanate, la seconda però che bisogna farlo con molta fretta, perché è del tutto evidente che ormai c'è un filo rosso che unisce l'offerta a chilometro zero e ovviamente la clientela che utilizza quell'offerta in modo così assiduo e anche così appassionato, quindi interromperla per mesi, per anni sarebbe assurdo, quindi dobbiamo sbrigarci, tanto che abbiamo anche proposto nelle nostre ovviamente limitatissime competenze anche di poter fornire un'area alternativa nel breve, per noi brevissimo tempo che deve intercorrere per la riapertura del mercato, cioè l'area di via Mazzacurati lì vicino a poche centinaia di metri dove si svolge il mercato saltuario di Corviale. Abbiamo in qualche modo condiviso con il Dipartimento questa soluzione, il Dipartimento ci ha fornito l'elenco dei produttori che a loro dire sono edone e possono quindi avere una assegnazione temporanea ovviamente per poter continuare ad esercitare le loro attività. Ovviamente si tratta di una soluzione non ottimale perché ci sono dei produttori che necessitano di strutture che ben possono essere all'interno di un locale chiuso, penso ai frigoriferi e che all'aperto ovviamente vanno in difficoltà, ma diciamo noi abbiamo proposto quello che potevamo proporre appunto cercando di venire incontro alle esigenze dei produttori sapendo che non possiamo né intervenire per fare i lavori perché non è una struttura nostra al di là della questione fondi, né intervenire con soluzioni alternative visto che è diciamo una gestione che non compete al municipio. Quindi noi abbiamo provato a metterci a disposizione ovviamente. Ecco, se ho capito bene quindi siamo in presenza di una situazione che nasce spontanea, no? Possiamo dire così? Beh, spontanea. In realtà nasce sulla base di un bando che è stato fatto. Il problema è che questo bando non è stato mai nelle sue fasi conclusive perfezionate, cioè è stata fatta una delibera di assegnazione senza allegare i soggetti che erano assegnatari. E come risultato di questo bando c'è qualcuno che è rimasto fuori che quindi protesta perché magari è stato facilitato qualche di un altro? No, no, non c'è qualcuno che, da quello che sappiamo non c'è nessuno che protesta perché è rimasto fuori, anche perché tra l'altro il numero di soggetti idonei è inferiore alla capienza del mercato. Quindi non è questo il punto. Il punto è che quando non c'è diciamo una gestione regolare, poi alla fine tutti non hanno titolo, in realtà anche coloro che invece avrebbero pienamente titolo a star là dentro. E quindi se nessuno ha titolo può entrare chiunque e se può entrare chiunque ci può essere anche qualcuno che coordina o non coordina le entrate. Insomma una gestione tipica del corviale che noi vogliamo lasciarci alle spalle, in cui non c'è lo Stato, non c'è l'istituzione e c'è qualcuno che coordina. Questo non va bene. Ecco, non si potrebbe approfittare proprio di questo aspetto temporale che dovrebbe essere utilizzato per rifacimento delle strutture, di quello che è necessario realizzare proprio per aprire il famoso tavolo intorno al quale ci si mette tutto intorno, vediamo di sistemare la parte amministrativa laddove ovviamente è sistemabile, legittimamente sistemabile. Assolutamente, io penso che il Dipartimento di Attività Produttive debba utilizzare questo tempo per fare immediatamente un nuovo bando o per regolarizzare diciamo coloro che hanno partecipato al vecchio e che hanno titolo per poter essere nel nuovo farmer market. Cioè noi dobbiamo ripristinare la completa regolarità amministrativa a tutela, intanto in primo luogo dei produttori che hanno diritto e che sono vittime di questa ombra che dura da 5 anni e poi anche a tutela dei cittadini che devono sapere che quando vanno a comprare al farmer market di Corviale un prodotto, sanno che quel prodotto sicuramente è di un produttore al chilometri di zero. E che è un mercato comunale. E che è un mercato comunale. Ecco quindi suggerimenti in questo senso voi l'avete portato all'attenzione dell'assessore Eleonori e da quello che riesco a capire. Assolutamente sì, l'assessore Eleonori è concorde sul fatto che noi dobbiamo intanto sbloccare i finanziamenti per poter fare questi interventi strutturali. Ripeto, non mi pagliano l'elemento imprescindibile e poi bisogna fare immediatamente, almeno per quanto mi riguarda, insomma tutto quello che deve essere fatto per regolarizzare. È un bando? Perfetto. È una verifica dei titoli di coloro che hanno partecipato al precedente bando? Perfetto. Basta che quando si riapre la struttura, chi entra sa che ha diritto, sa che non deve dire grazie a nessuno e sa che può operare nella massima e piena trasparenza. Ecco, per quello che è a sua conoscenza, quali sono i tempi di questa situazione? Se esistono? Guardi, noi faremo mercoledì prossimo una memoria di giunta per dare mandato agli uffici di assegnare temporaneamente nella zona di Via Mazzacurati a chi ce lo chiedesse, dei produttori che facevano parte, dell'elenco che ci è stato inviato dal Dipartimento di Attività Produttive, appunto uno stallo per poter continuare ad esercitare all'aperto questa attività. Questo è quello che facciamo come municipio. Ovviamente poi siamo subordinati a quello che faranno le attività produttive, però noi abbiamo detto all'attività produttiva che vorremmo che entro l'estate si sanasse tutta la parte amministrativa e si riuscisse a settembre a far rientrare gli operatori. Non dipende da noi, però questo secondo me sarebbe un tempo congruo, quindi senza dire cose che non possono essere realizzate con i tempi della pubblica amministrazione, ma che riuscirebbe anche a tenere in qualche modo quella continuità delle attività del farmer's market che è fondamentale per non perdere i clienti. La reazione da parte dei cittadini, soprattutto di Corviale, rispetto a questa struttura, cioè è una reazione positiva? Le persone ci vanno? Assolutamente. Gli abitanti dei 1200 appartamenti? Assolutamente sì. Noi abbiamo tre cose che a Corviale attirano persone fuori da Corviale. La biblioteca comunale, il campo da rugby e il farmer's market. Cioè noi dobbiamo puntare appunto su dei luoghi attrattivi che facciano cambiare anche l'idea che si ha di Corviale e il farmer's market è un'eccellenza. Io su questo sono assolutamente convinto e a fianco dei cittadini, perché in tantissimi mi hanno scritto, chiedendomi appunto spiegazioni, facendomi capire quanto sia importante questo mercato per quel quadrante, perché a Corviale qualcuno aveva paura di andarci, qualcuno aveva paura a nominarlo. Quando nacque il centro commerciale lì a Corviale si chiamò Casetta Mattei Center. Se questa paura sta passando è perché ci sono strutture come quella. Quindi è un elemento che fa vivere Corviale, perché in fondo una delle carenze di Corviale è proprio questa, questa massa incredibile di cittadini e di cemento, potremmo dire. Poi si sente anche nel vivere quotidiano, quindi alimentare una condizione nella quale ci siano strutture che possono vivere il quartiere, perché quando parliamo di Corviale parliamo di un quartiere, è un palazzo solo ma è un quartiere nel suo insieme. È un elemento positivo quindi che concorre a cambiare anche il volto di Corviale. Sì, il volto di Corviale sta cambiando perché le istituzioni, io devo dire che è uno dei quartieri su cui si è investito di più a livello di istituzioni pubbliche. Tantissimi investimenti sono stati fatti, le scuole, il consiglio del municipio, gli uffici della ASL, dei vigili, però il punto è che oltre agli investimenti ci deve essere un tessuto sociale che si riconosce, che accetta di essere, di vivere a Corviale e che sente proprio Corviale. Non è facile quando non si hanno case di proprietà, quando ci sono case popolari, però in realtà questo tessuto se c'è una manutenzione degli stabili, se ci sono luoghi di eccellenza, in realtà invece si può comunque conservare e costruire. Io penso che noi ci stiamo riuscendo, ci siamo riusciti, Corviale è una delle zone in cui c'è un tasso di criminalità sotto la media rispetto al livello cittadino, nonostante invece la percezione della paura sia sopra la media, quindi vuol dire che ancora abbiamo tanti pregiudizi rispetto invece ai dati di fatto e di realtà, però per abbattere i pregiudizi servono appunto luoghi come questi, perché? Perché quando una persona comincia ad andare a Corviale si accorge che non è quello che gli aspettano. Che siamo nella normalità. Assolutamente. E nel frattempo, diciamo, quello che ha aiutato molto Corviale è anche le realizzazioni nate intorno agli insediamenti privati, le cooperative e quant'altro. Ecco, un'ultima battuta proprio per quanto riguarda proprio il Palazzo di Corviale, le iniziative atere, il quarto piano che diventa abitabile, a che punto siamo? Siamo al punto in cui finalmente la Regione Lazio è uscita dall'ipocrisia dell'abbattimento, sapendo che era una soluzione ormai non percorribile, al di là di come ciascuno di noi la pensi. Il finanziamento che era stato deliberato poi con l'Aggiunta Marrazzo, ma in realtà era ancora precedente, è stato confermato, quindi ci sono 20 milioni di euro. Che sono in cassa? Che sono in cassa, veri? L'Ater sta lavorando per realizzare finalmente la riqualificazione del quarto piano, quindi la sostituzione edilizia, la trasformazione del quarto piano in appunto abitazioni. Ci sarà un concorso internazionale per capire qual è il futuro di Corviale e abbiamo delle particolarità. Corviale è il luogo del nostro municipio più visitato da studenti universitari, da professori, è il luogo su cui tantissime intelligenze si stanno concentrando. Noi abbiamo proprio qualche giorno fa incontrato dei docenti della Sapienza che stanno cercando di costruire un tessuto, un reticolo direi di mobilità alternativa che possa collegare Corviale per esempio con l'otto, con il casaletto e con tutta la serie degli ospedali che sono sulla Gianicolenze. Il nome Corviale paradossalmente adesso comincia a diventare invece un nome su cui le intelligenze si cominciano a concentrare. Fa un po' diciamo... Quindi si sta superando l'idea del Bronx. Si sta superando l'idea del Bronx. Un tempo ci si nascondeva perché si pensava che fosse irrecuperabile. Adesso invece comincia ad essere una sfida che si sa che può essere vinta e quindi molti si stanno concentrando. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie a lei.